Stretta a Marsiglia, il governo francese ha annunciato nuove misure draconiane localizzate per combattere la pandemia da Covid-19 e ha deciso la chiusura totale di bar e ristoranti nella città di Marsiglia. Lo ha annunciato il ministro della salute aggiungendo la messa in maggiore allerta di 11 metropoli, comprese Parigi e Lille. Nel capoluogo francese in particolare bar e ristoranti saranno aperti solamente fino alle 22. La situazione generale continua a peggiorare in alcuni territori e le conseguenze sulla salute, in particolare lo stato di allerta di alcuni ospedali, richiedono l'adozione di misure aggiuntive, ha dichiarato il ministro della salute Olivier Veran per spiegare queste decisioni. Il sindaco di Marsiglia, Michel Rubirola, ha espresso su Twitter il suo stupore e la sua rabbia, mentre il presidente della regione Renaud Mausillier ha denunciato una punizione collettiva estremamente dura per l'economia dei nostri territori. La situazione è talmente peggiorata che era necessario arrivare a prendere decisioni drastiche, dice questa donna, e ammetto che è per questo che siamo usciti stasera. Ci siamo detti avremo altre opportunità per andare al ristorante nei prossimi 15 giorni? Così abbiamo deciso di venire e mangiare un piatto di pesce. Personalmente li fa eco quest'uomo. Penso che sia triste chiudere ristoranti e bar perché è ancora un aspetto economico importante nel nostro paese e questo porterà a un blocco dell'intera economia.